Siamo qui a Valentino alla Facoltà di Architettura con la dottoressa Rivetti del sindacato dei medici ospedalieri a Nao Assomed. Dottoressa Rivetti, come mai questo festival della sanità pubblica? Abbiamo deciso di parlare di sanità in modo differente e soprattutto di parlarne con la popolazione, con la società civile, con i movimenti per creare una rete a difesa della cura gratuita e del diritto costituzionale alla salute che in questi ultimi anni ci sembra fortemente a rischio. Quali saranno i temi principali di questo festival? Parleremo della differente spesa tra sanità pubblica e sanità privata, del progressivo di finanziamento, della difficoltà dei medici sul lavoro con un progressivo burnout, un aumento del disagio e parleremo anche di ambiente perché ci sarà un rappresentante del movimento No Fast Veneto che ci parlerà del grave caso di inquinamento delle acque che c'è stato in Veneto per questi composti chimici che derivavano da un'industria chimica che quindi ha esposto i bambini per anni a un'intossicazione grave. Crisi dei pronto soccorsi, fuga dei medici verso la sanità privata, è una situazione davvero così complicata? È una situazione molto complicata in pronto soccorso, praticamente in Piemonte, praticamente tutti i pronti soccorsi sono affidati a medici delle cooperative, quindi sono esternalizzati. Ancora i pochi medici che ci lavorano stanno valutando se scappare perché le condizioni di lavoro sono sempre più pesanti, il rischio di aggressione, il rischio di denunce è alto e soprattutto il carico di lavoro è alto. In Piemonte sono stati tagliati negli ultimi anni più di 1500 posti letto e quindi è molto difficile ricoverare. Questo implica attese su una barella di oltre 5-6 giorni per un posto letto, cosa che crea un disagio molto grave in primis per i pazienti, ma anche per i colleghi che vorrebbero poter offrire le cure migliori a tutti. Grazie dottoressa, buon festival! Grazie!